Mi chiedevo subito un commento sulle fortuna di De Frey, una brutta pegola anche perché almeno penso per settimane un commento perché De Frey è uno di quei giocatori che è fondamentale. Quando vi dico che la stagione è storta, i giocatori più in forma ce ne hanno tutti gli infortuni, uno con il dito rotto, De Frey adesso con un piccolo stiramento, Coppola anche lui con un piccolo stiramento, quindi sono in quelle stagioni dove non c'è niente di fortuna, quindi bisogna essere bravi a saper svoltare neanche le difficoltà. De Frey è un giocatore che per tre settimane mancherà, al secondo di più, e quindi tre o quattro, quindi bisogna essere bravi a sapere reggere queste botte. Sono le stagioni date male, sono da una cattiva stella e quindi tutto quello che stiamo facendo è veramente di una cosa molto importante. Grazie a questo, infatti, a Graffiedi, che quindi potrebbe tornare solo dal primo minuto, chiederà anche tanto lavoro in fase di copertura, è uno molto generoso, uno che comunque è sempre, anche se è stato un po' al margine, ovviamente l'ha sempre apprezzato per i grandi impegni ed è uno che in difesa può dare una mano. È che è una immagine, a Valese ha giocato le zone, poi ha avuto un'infortuna, ha avuto una brutta... È un giocatore che è scoccalo nel suo momento, sicuramente giocherà lunedì, giocherà, e quindi l'allenatore deve percepire i momenti di quando uno sta bene e in questo momento Graffiedi mi ha dato dei segnali importanti, quindi si è conquistato il posto per lui, è importante. Rimanendo sul cortone, da quello che hai provato oggi, ti aspetti magari, come dicevi, i sette giocatori nostri, tutti magari in giù e i tre davanti che devono ripartire in velocità? Sì, sì, loro hanno una caratteristica, che giocano a calcio, nel senso che gli piace molto tenere la palla a partire da dietro, adatta a questa mentalità qui della natura, quindi è stato molto bravo. Mi sembra che sia una squadra che tiene spesso il possesso di palla sempre superiore alle squadre avversali, specialmente in casa, e quindi mi aspetto che i tiri vengono, che le mezzale si mutano, e quindi dobbiamo essere bravi a reggere l'ultimo come abbiamo fatto oggi nell'allenamento, che abbiamo provato, reggere l'ultimo di 8-9 persone per poi ripartire in velocità con i tre giocatori che abbiamo ad avanti. L'intensità di noi, per come si è svolta l'anno loro settimana, non hanno giocato sabato, non hanno fatto la partita, noi abbiamo avuto mercoledì una partita importante, una sconfitta, però mercoledì abbiamo reggito molto bene, nonostante l'Asco non l'aveva giocato. Quindi sono fiducioso su questo, è chiaro che ho detto ai ragazzi, che bisogna portare via il risultato, un risultato importante perché ci permette di vivere più di serenità. Perché io l'ho detto oggi, vedete, al di là degli assetti, ci sono delle stagioni dove tutto diva stotto, e questa è una delle quelle annate, perché d'Alessandro De Freni in questo momento erano i giocatori con Coppola più in forma della squadra, e mi toglie i tre giocatori più in forma della squadra in un momento topico, dove gioco sei partite nel giro di due settimane. E quindi non è buono. Quindi vuol dire che sono quelle stagioni in atti sotto una cattiva stella, o c'è qualcuno di uno che ci vuole male. Guardando ai singoli, Gabionetta ovviamente, poi un paio di giocatori che si piacciono di questo protone, che ha 4-5 elementi, l'Aderam dalla cintura in su, molto forte. Giocatori di una squadra che tutti gli anni ha fatto bene, quindi Gabionetta è l'emblema, ma vogliamo dimenticare Eramo, Gallardo, Ciano, Khalil, Abruzzese, e quindi sono giocatori molto, molto importanti. In Plex arriva Matute, però ci dici? Matute sta facendo un buon campionato, mi hanno detto, ma ha detto che sta facendo un'ottima campionato, sono contento perché è una bravissima ragazza, un bravissimo uomo che se lo merita, e quindi qui ha fatto una buona partita da terzino, ha fatto una buona partita. Ultimamente ho visto che l'ha riproposto Mezzala, quindi sta facendo bene, sono contento perché se lo merita. Chiaro che noi dobbiamo andare là a fare risultati. Troveremo un ambiente difficile, perché vorranno fare, anche loro togliersi sicuramente dalla zona calda più possibile, quindi noi uguali.